Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, rallentamenti per perdita di carico tra Monte Cateni Terme e Prato Ovest nella carreggiata verso Firenze. In A1 segnaliamo che per lavori, questa notte in orario 23.06, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Bologna. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza troviamo rallentamenti verso Firenze tra Impoli Est e Ginestra. In carreggiata opposta resta un chilometro di coda tra Ginestra e Monterupo. Ricordiamo i percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Prima di salutarci per il traffico aereo e il volo Pisa-Malta delle 17.55, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.25. Muoversi in Toscana Infia è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.